Un'ennesima prova strepitosa da parte di Maurizio Ferrara consegna la vittoria al Basket Club Irpinia. Gli avellinesi si aggiudicano anche il turno infrasettimanale, battendo fuori casa, con il punteggio di 81-64, il Basket Sant'Antimo. Ferrara ha messo segno ben 31 punti e si conferma al vertice della classifica dei migliori realizzatori di tutta la Serie D. Il match è stato conquistato quarto dopo quarto dagli Irpini, che lo hanno gestito grazie alla loro sagacia tattica e alla superiorità tecnica. Il primo tempo la squadra di Giannacone è andata sul riposo 38-30, nel secondo invece hanno continuato a gestire il gioco. A rinvigorire il già ottimo roster degli Irpini ci ha pensato il nuovo innesto Mimmo Izzo. Neanche il tempo di fermare il cartellino con la nuova formazione, che Izzo è sceso subito in campo mettendo a segno 10 punti. La presenza del lungo di Montoro sotto i tabelloni da oggi dà una dimensione interna al Basket Club, che prima non aveva. Sabato sera i Irpini alle 20.15 scenderanno nuovamente in campo per affrontare in casa l'Atletic System San Giorgio, una gara di normale routine nella quale però dovrebbe essere annunciato un nuovo socio.